per un progetto artistico vero e proprio dedicato al mondo arabo, abbiamo il telefono Federica Serased, buonasera buonasera a tutti, buonasera a tutti ciao, stai lavorando un progetto iniziato da molto tempo, lo so sì, sì, sabato finalmente andiamo in scena, ci troviamo al teatro Uglide in Roma e dalle 5 sarà possibile accedere alla mostra Open Art dove pittori, scrittori, poeti esibiranno le loro opere e a partire dalle 18.30 sarà lo spettacolo di danza dedicato al mondo arabo noi abbienteremo lo spettacolo nel Medioevo e nell'Antica Messia quindi sarà un vero e proprio viaggio nel tempo e nella geografia e beh sì, sicuramente, senti del mondo arabo che tu ti piace particolarmente, a me interessa molto la cucina posso dire che la cucina tunisina in particolar modo è molto buona perché è mediterranea ok, 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 senti, visto che questa sera invece parliamo di personaggi incontrati per caso a Roma ti è capitato di conoscere qualche personaggio famoso così in una situazione di normalità? beh, diciamo Roma comunque è la capitale del cinema, abbiamo la fortuna di vedere ogni tanto qualche attore ho avuto la fortuna una volta in un centro commerciale di incontrare Gabriele Garbo e devo dire che, insomma, non bevissima cosa hai fatto un selfie, scommetto? no, 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 troppo di vita brava, sei di quelle tranquille che non vanno a infastidire nessuno no, no, assolutamente va bene, Federica, in bocca al lupo per sabato va bene, ciao wow dimensione suono Roma il ritmo della capitale you were the